Il nostro Antonio si siede sul gabello e farà un tango argentino, io so che poi me lo chiedono sempre gli amanti di questo bellissimo ballo, contentiamo tutti, chi sa ballare il tango argentino va in pista e lo balla intorno a lui, per voi il nostro Antonio Simone che vuole ballare il tango argentino in pista Forza, forza, sono gli amanti del tango Grazie a tutti 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 Grazie a tutti